Ciao a tutti ragazzi, perlomeno di questa nuovissima parte, allora ho allenato un po' la squadra Ecco, mi mancava, ecco, se sentite qualcuno, mamma E allora, sono qua perché voglio portare tutti al 15 e Maria si evolve anche al 15, ma su quello sbaglio Perché mi sbaglio? Vabbè, vi taglio fino a che non arriva a livello qui Eccolo qua, livello premato Cosa? Maxwell si sta evolvendo? La nostra rivoluzione Anche Maxwell, bravo Maxwell Io l'ho venuto così prima di tottel perché facevo il 18 e quindi ce ne avevo... Tenevo un attimo davanti a Maxwell perché... Eh... E' l'ho venuto così prima di faremo le rovine d'Alfa, appunto, un attimo che mi sposto in salotto perché stanno fanno il fondo su di lei e non sto spostando con la corda E' la che cosa... Ehm... C'è scolta un nastro Vuole che i miei voti Allora prendo le eroline d'alpha Che sono la parte che mi fa più paura Guardate la loro scontata Io dico Non ho una più dire sull'eroline d'alpha Sono maledetta per me Quindi se avrete paura Ci la prendo in tanto sul video Perché la scuola si viene molto E' molto più triste Questo team Allora è formato Ci sono davanti Per il prossimo momento Sarà fino al 18-20 Non ho davanti Quindi nel caso Allora non ci vorrebbero essere Cioè loro non sono allenato Ci parlano Ci parlano E così via Uovo Perché non me l'hanno dato strancio Allora 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 Prendiamo un laboratorio. 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 Prendiamo un laboratorio.